Voglio per questo ringraziare anche il mio predecessore, il Presidente Mario Draghi, che tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno, anche se, con il nuovo Governo ovviamente, anche se, per ironia della sorte, quel Governo era guidato dal Presidente dell'unico partito di opposizione all'esecutivo da lui presieduto. Gentile Presidente, Mario Draghi non è caduto, si è dimesso e lo ha fatto quando si è reso conto che la situazione economica e sociale del Paese era sul punto di esplodere a causa delle sue politiche a supporto degli interessi americani in Ucraina, come le sanzioni al nostro primo e attualmente insostituibile fornitore di energia, che rischiano di radere al suolo l'intero tessuto economico del Paese, con tutte le conseguenze sociali facilmente prevedibile. Non è stato quindi un passaggio di consegne, ma il suo intento era di lasciare al suo Governo il cerino in mano, con una miccia sul punto di esplodere che potrebbe essere disinnescata, è vero, ma soltanto qualora il suo Governo faccia da subito il contrario di quanto previsto dall'agenda Draghi, in merito alla politica internazionale. Se lei non ha intenzione di fare questo e pare proprio che lei non abbia intenzione di fare questo dopo le dichiarazioni che ha rilasciato a sostegno di Zelensky e contro la Russia, allora le consiglio di non ringraziarlo perché quella bomba vi esploderà tra le mani in un futuro molto prossimo. Si è molto ricamato per i moltissimi che hanno rinunciato all'esercizio di questo dovere civico, sancito nella Costituzione, cittadini che reputano sempre e più spesso inutile il loro voto perché dicono tanto poi decide qualcun altro, tanto poi si decide nei palazzi o nei circoli esclusivi. E purtroppo spesso è stato così negli ultimi 11 anni. Con un susseguirsi di maggioranze di governo pienamente legittime sul piano costituzionale ma drammaticamente distanti dalle indicazioni degli elettori. Questo che lei denuncia è avvenuto per tutti gli 11 anni a causa del suo predecessore che oggi lei sta ringraziando. Nel 2011 quando Mario Draghi era capo della Banca Centrale Europea, prima con una inaccettabile lettera al governo italiano e poi chiudendo un occhio sulle operazioni speculative sui mercati si è reso protagonista del commissariamento del nostro paese da parte di governi e personaggi totalmente distanti dalle indicazioni degli elettori come ha lei giustamente sostenuto e cosa ancora più grave, totalmente distante dai loro interessi. che poi Mario Draghi stesso si è reso protagonista di quella anomania, di quella distorsione della democrazia accettando l'incarico il 13 febbraio 2021. Lo che noi vogliamo fare è liberare le migliori energie di questa nazione e garantire agli italiani, a tutti gli italiani, un futuro maggiore di libertà, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati o fare scelte che potrebbero non essere comprese nell'immediato da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro perché il coraggio di certo non ci difetta. Certo che per farlo dovreste scontentare alcuni potentati. Facciamo i nomi. Gli Stati Uniti che stanno perseguendo i propri interessi in Ucraina dal 2014, ossia da quando hanno preso in ostaggio un paese per portarlo in guerra contro il proprio nemico storico in modo da poter realizzare in un solo colpo i loro tre principali interessi. Numero uno, dividere definitivamente l'Europa dalla Russia. Numero due, sostituirsi a Putin come fornitore di gas all'Europa. Numero tre, ristabilire un mondo unipolare a guida statunitense. Dovreste poi, caramelloni, scontentare anche i potentati della Nato che a questo gioco sporco degli USA si sono prestati fin da quando hanno deciso di portare avanti una politica di allargamento spregiudicata ed insensata contravvenendo a degli accordi scritti e pienamente consapevoli di dove quella politica avrebbe portato, ossia alle inevitabili reazioni della Russia e ad un attacco preventivo, cautelativo e difensivo come quello che tante volte hanno portato avanti proprio gli Stati Uniti e la Nato. Negli ultimi giorni sono stati imparecchi, anche fuori dai nostri confini nazionali, a dire di voler vigilare sul nuovo governo. Direi che possono spendere meglio il loro tempo. In quest'Aula e nel nostro Parlamento ci sono valide battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce senza, mi auguro, alcun soccorso esterno. E voglio sperare che quelle forze convengano con me sul fatto che chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto a me o a questo governo, manca di rispetto al popolo italiano che non ha lezioni da prendere. In realtà, Carameloni, se il riferimento è ai francesi di lezioni, ce ne siamo fatti in partire tante e purtroppo non solo quelle. Abbiamo per esempio accettato al governo una serie di politici che hanno poi ricevuto la legion d'onore francese, ossia una delle più alte onoreficenze conferite a chi si è distinto nel fare gli interessi francesi. Nonostante, ovviamente, molto spesso quegli interessi fossero in competizione con gli interessi italiani. Tra i legionari abbiamo avuto Labbonino, l'amica di Soros, abbiamo avuto D'Alema, il venditore d'armi, abbiamo avuto Letta, che in Francia è poi andato a vivere ed ha ricevuto una cattedra di prestigio, abbiamo avuto Prodi, ma emblematico è stato il ruolo di Sandro Gozi, che da sottosegretario alla presidenza del Consiglio in Italia con delega alle politiche europee, poi è diventato il responsabile di quelle stesse politiche europee, ma questa volta per il governo francese. Ed è in Francia che Gozi si candiderà alle elezioni del Parlamento europeo, nonostante proprio lui avesse gestito nel suo ruolo in Italia dei dossier sensibili che potrebbero essere stati utili contro di noi nelle mani di uno dei nostri competitor europei come la Francia. Eppure nessuno ha denunciato questa anomalia fino in fondo. Per non parlare poi di quando abbiamo avuto un Presidente del Consiglio, calato dall'alto, Mario Monti, che proveniva direttamente dalla Commissione Attali per il rilancio della Francia, insieme al Ministro italiano Franco Bassanini, anche lui con la legion d'onore francese. Altro che lezioni da prendere. Abbiamo preso i loro uomini e li abbiamo messi a capo del governo italiano. L'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente e del suo sistema di alleanze. Stato fondatore dell'Unione Europea, dell'Eurozona e dell'Alleanza Atlantica. Membro del G7 e ancora prima di tutto questo culla, insieme alla Grecia, della civiltà occidentale e del suo sistema di valori fondato su libertà, uguaglianza e democrazia. Ma allora perché non difendiamo questa civiltà occidentale? Quello che noi stiamo facendo contro la Russia non è difendere i valori occidentali, ma metterli seriamente in pericolo. Perché per difendere quei valori la Russia andava inglobata in Europa in funzione anticinese. Perché la Cina è l'unica capace di mettere in pericolo quei valori che voi dite di difendere. Invece abbiamo fatto esattamente il contrario e perseveriamo nell'errore. rischiando di gettare la Russia tra le braccia della Cina e costringendola a diventare subalterna ai cinesi. Quindi rafforzando la vera minaccia ai valori dell'Occidente di libertà, uguaglianza e democrazia che i regimi comunisti sappiamo bene che non hanno mai potuto assicurare. L'alleanza atlantica garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza che troppo spesso diamo per scontato. No caro Presidente Meloni, questo era vero ai tempi della guerra fredda, quando la Nato fu creata in funzione antisovietica perché c'era un blocco che si opponeva a quello occidentale ed era pronto a conquistarlo anche con la forza. Ma dopo lo scioglimento dell'URSS con la Nato che cessava la sua ragione d'essere ma che non si è voluta sciogliere e quindi abbiamo assistito alla sua trasformazione in agente provocatore di guerre, così come è avvenuto in Ucraina, a causa proprio del suo allargamento spregiudicato e a causa delle sue politiche di accerchiamento del potenziale nemico. L'Italia continuerà a essere partner affidabile in seno all'alleanza atlantica a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all'invasione della federazione russa. Non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell'integrità territoriale di una nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere il nostro interesse nazionale. Vede Presidente, lei da questo momento in poi smette di apportare novità e si allinea perfettamente al solco già tracciato dal PD e dall'agenda Draghi, un tragitto che porta dritto al baratro. Il successo o meno del suo governo e quindi di noi italiani, un successo infatti che noi tutti auspichiamo per non vedere mai più il centro-sinistra al potere, passa proprio da questo snodo cruciale. Riuscire a far sì che lei sulla politica internazionale non si allinea alle posizioni dei burattinai, dei governi precedenti e faccia quanto prima una brusca ma indispensabile inversione di rotta, prima di portare il popolo italiano che lei stessa dice di voler difendere, difendere allo schianto. Nelle guerre non esistono solo aggrediti e aggressori, troppo facile questa semplificazione. Esistono anche azioni preventive da parte di chi, avendo la certezza di essere sul punto di ricevere una aggressione, si trasforma lui stesso da potenziale aggredito in aggressore. E queste sono dinamiche che noi non possiamo ignorare solo perché non vogliamo scontentare dei potentati. Riprendo a questo proposito le sue stesse parole. Noi non siamo intervenuti in Ucraina nel 2014, quando gli americani fomentavano una rivolta contro un governo democraticamente eletto. Non siamo intervenuti quando i loro guerrafondai senatori andavano a parlare sul palco coi rivoltosi anche a nome dell'Europa, rendendosi protagonisti di una ingerenza senza precedenti negli affari di un altro Stato. Le consiglio di guardare il video del discorso del senatore americano John McCain sul palco di Kiev circondato dai membri dei battaglioni neonazisti. Ascolti poi l'intercettazione della portavoce del Dipartimento di Stato americano, Victoria Nuland, che dalla piazza di Kiev, dove si trovava tra i rivoltosi, mandava letteralmente a fanculo l'Unione Europea, quindi anche noi. Quando parlando con l'ambasciatore americano a Kiev, pretendeva di essere lei a trovare il presidente, a scegliere il presidente del Consiglio in Ucraina. FAC European Union. Questa è la frase esatta. Legga poi gli articoli del Sole 24 Ore del 2014 che raccontano di come lo speculatore internazionale George Soros, ossia quello che fece in passato crollare la lira italiana, abbia contribuito con delle società private a scegliere i membri del governo di Kiev, come se si fosse trattato di scegliere i membri di una multinazionale, altro che paese sovrano. Non le fa onore dire una baggerata del genere a proposito dell'Ucraina, soprattutto a lei che ha piena contezza di cosa voglia dire essere sovrani a casa propria. Nulla di sovrano o di democratico è stato mai fatto in Ucraina a partire dal 2014, quando è diventato un paese ostaggio degli Stati Uniti, che addirittura imposero dei ministri americani nel governo in Ucraina ed imposero il figlio del vicepresidente americano Joe Biden ai vertici delle principali compagnie del gas. dove sta la sovranità ucraina e dove stavamo noi difensori di quella sovranità davanti a questo scempio e a queste inaccettabili ingerenze. Eravamo in silenzio per non scontentare certi potentati. Vede che alla fine si arriva sempre lì e siamo rimasti in silenzio, pur sapendo che se quelle inaccettabili ingerenze avessero poi costretto Putin ad agire, saremmo stati noi come Europa a subire tutte le conseguenze, così come poi è accaduto. Ma siamo rimasti fedeli a quel FAQ European Union ed abbiamo mandato letteralmente a fanculo i nostri interessi nazionali, che ora non siamo certamente tutelando con le sanzioni che radono al suolo il nostro tessuto economico e produttivo. Stiamo anzi contribuendo alla distruzione del nostro interesse nazionale ed è su questo punto che si gioca il futuro del suo governo e del nostro Paese. Tutto dipende da quanto tempo lei impiegherà per tornare in sé e riprendere quelle che erano state le sue stesse parole pronunciate in quello stesso Parlamento nel 2014 contro quelle che lei definiva la folle scelta di mettere le sanzioni alla Russia che a suo dire erano contro il nostro interesse nazionale perché l'Italia doveva rimanere un Paese neutrale. Quindi prima lei torna in sé, prima riprende il senso di quelle parole e prima esce dal solco già tracciato dai governi precedenti e dai burattinai, ripeto, dei precedenti governi in modo che finalmente le possa mettere noi nelle condizioni di poter godere di un centro sinistra finalmente mandato nella soffitta della storia. Anche per questo sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese sia sul versante delle bollette sia su quello del carburante. Un impegno finanziario imponente che trenerà gran parte delle risorse irreperibili e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio. Non dovete rimandare nulla, caro Presidente perché i costi del caro Energia per una guerra che gli italiani non hanno voluto e per delle speculazioni che l'Unione Europea non ha saputo frenare non dobbiamo pagarli noi, li deve pagare la Banca Centrale Europea che secondo le parole di Mario Draghi che riporto a tutti gli strumenti per far fronte a qualsiasi emergenza e risorse potenzialmente infinite perché lo sappiamo, la Banca Centrale Europea quel denaro lo crea dal nulla. Quindi così come fece il whatever it takes per salvare i conti delle banche che avevano speculato in paesi come la Grecia ora deve essere chiamata a fare immediatamente un whatever it takes per le speculazioni dovute ad una guerra che noi stiamo sostenendo unicamente per gli interessi americani in Ucraina l'Unione Europea ha appena stanziato un miliardo e mezzo al mese quindi 50 milioni di dollari al mese per la guerra in Ucraina e lo ha fatto con dei bond comunitari senza quindi che gravino sul compito del debito pubblico dei singoli paesi ed un governo che vuole realmente tutelare gli interessi nazionali ora dovrebbe battersi affinché questo avvenga anche per le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese sia sul versante delle bollette che sul versante del carburante ossia per le conseguenze di quella guerra stessa senza parlare quindi di rinviare provvedimenti già stanziati per gli italiani perché da questa guerra gli italiani non ci guadagnano nulla e non devono essere toccati i soldi stanziati per il popolo italiano Putin chiese un incontro con i vertici di tutte le principali aziende italiane dicendosi pronto ad un prezzo di favore al nostro paese definito da lui un paese amico e dal momento e questo è importante ribadirlo nonostante la nostra folla scelta di diventare cobeligeranti in una guerra contro di lui nonostante le sanzioni ed il nostro invio di armi all'Ucraina non è Putin che sia intestato l'aumento delle bollette energetiche variandone il prezzo ma quel prezzo così alterato è formato a causa di speculazioni avvenute sulla borsa di un paese europeo sulla borsa di un paese membro dell'Unione Europea come l'Olanda quindi di quell'Europa a cui lei adesso giura fedeltà per non scontentare qualcuno negli ultimi vent'anni l'Italia è cresciuta complessivamente del 4% mentre Francia e Germania di più del 20% negli ultimi dieci anni si è collocata la nostra nazione negli ultimi posti in Europa per crescita economica e occupazionale con la sola eccezione del rimbalzo registrato dopo il crollo del PIL nel 2020 il parametro temporale che lei ha preso in considerazione è ingannevole stimata Presidente sarebbe più corretto parlare degli ultimi 30 anni perché quel dato sul crollo del nostro PIL e della nostra produzione industriale rispetto ai paesi del nord Europa coincide esattamente con l'entrata dell'Italia nella moneta unica così come l'impennata del debito pubblico a causa degli interessi pagati su quel debito stesso coincide con la divisione tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia ossia da quando abbiamo affidato la formazione di quel prezzo alle speculazioni dei mercati esattamente come stiamo facendo oggi con il costo dell'energia non a caso dieci anni durante i quali si sono succeduti governi deboli eterogenei senza un chiaro mandato popolare incapaci di risolvere le carenze strutturali di cui soffrono l'Italia e la sua economia e di porre le basi per una crescita sostenuta e duratura non a caso si tratta di dieci anni di governi fortemente europeisti piegati ai diktat dei mercati e delle istituzioni europee crescita bassa o nulla quindi accompagnata dall'impennata dell'inflazione che ha superato il 9% nell'area euro e ha indotto la banca centrale europea al pari di altre banche centrali per la prima volta dopo undici anni a rialzare i tassi di interesse una decisione da molti reputata azzardata e che rischia di ripercuotersi sul credito bancario a famiglie e imprese e che si somma a quella già assunta dalla stessa banca centrale di porre fine a partire dal 1 luglio 2022 al programma di acquisto di titoli a reddito fisso sul mercato aperto creando una difficoltà aggiuntiva a quegli stati membri che come il nostro hanno un elevato debito pubblico siamo dunque nel pieno di una tempesta beh come vede la BCE che ha fatto tutto il possibile per salvare le banche per salvare una moneta gestita dalla finanza internazionale ora sta facendo tutto il possibile per affossare famiglie e aziende ci è stato chiesto come intendiamo tranquillizzare gli investitori a fronte di un debito al 145% del PIL secondo in Europa soltanto a quello della Grecia potremmo rispondere citando alcuni fondamentali della nostra economia che rimangono soliti nonostante tutto siamo tra le poche nazioni europee in costante avanzo primario vale a dire lo Stato spende meno di quanto in cassa al netto degli interessi sul debito il risparmio privato delle famiglie italiane ha superato la soglia dei 5 mila miliardi di euro e in un clima di fiducia potrebbe sostenere gli investimenti nell'economia reale ma caro Presidente se il nostro Stato spende meno di quello che incassa quindi è un paese virtuoso se gli italiani hanno un risparmio privato tre volte quasi superiore al debito quindi non possiamo potenzialmente mai fallire perché quegli interessi sul debito pubblico sono così alti non è che anche in questo caso siamo vittime di scelte speculative da parte di chi ha bisogno che il nostro debito pubblico aumenti anche quando siamo virtuosi e non crede che sia proprio quella Europa a cui lei conferma la sua fedeltà a causare tutto ciò la sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l'Italia riuscire a utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria vede Presidente lei prima ha detto che lo Stato italiano spende meno di quello che incassa io le voglio dare un altro dato ufficiale l'Italia per oltre vent'anni ha dato all'Unione Europea più di quanto l'Unione Europea ha restituito all'Italia e parliamo di decine di miliardi di euro bene mi può spiegare allora perché anche lei continua a chiamarli fondi europei quando in realtà sono fondi italiani che tornano indietro solo parzialmente tra l'altro siamo fermamente convinti del fatto che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare in realtà l'Italia ha bisogno soprattutto di una riforma elettorale non è possibile che cinque capi partito possano scegliere l'intero Parlamento italiano e che i parlamentari scelti debbano giurare fedeltà quindi ai capi partito e non agli elettori lo abbiamo visto in verità anche con il suo partito parlo soprattutto nella mia regione capilista calati dall'alto perché figli di o nipoti di e la democrazia così ne risulta indebolita sua santità papa francesco ha di recente ribadito un concetto importante la povertà ha detto non si combatte con l'assistenzialismo la porta della dignità di un uomo è il lavoro è una verità profonda che soltanto chi la povertà l'ha conosciuta da vicino può apprezzare davvero è questa la strada che intendiamo percorrere le consiglio caro presidente a questo proposito di percorrere un'altra strada indicata da papa francesco quando ha detto l'abbaiare della nato alla porta della russia ha indotto il capo del cremlino a reagire e a scatenare il conflitto un'ira che non so dire se sia stata provocata ma facilitata forse sì bene caramelloni rifletta su questo punto e inverta immediatamente la rotta della nave della quale dice di essersi messa al timone la libertà diceva non consiste nel fare ciò che ci piace ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve io sono sempre stata una persona libera sarò sempre una persona libera e per questo intendo fare esattamente quello che devo grazie quello che lei deve fare è uscire immediatamente dal solco tracciato dai mandanti dei governi precedenti opporsi alle sanzioni alla Russia e portare l'Italia ad essere un paese neutrale un paese ago della bilancia tra le due superpotenze solo così possiamo ambire alla libertà del nostro paese detto questo mi trovo perfettamente d'accordo con tutto il resto del suo lunghissimo e accorato discorso le faccio i miei migliori auguri che questo governo possa durare più a lungo possibile ma ascolti i consigli di chi come lei ama questo paese un saluto a tutti